L'impianto per lei? Ora ci credo, ora lo so che è tutto vero. È un SM58, va bene per lei? Perfetto, perfetto. Benissimo. Dopo la nostra cantante ci canterà una cosa, ci canterà la rosina che va nell'otto, è specializzata, è specializzata la signorina, conosci tutti i canti da osteria. Non è vero. Non è vero? Come non è vero? No, purtroppo non sono molto ferrata. Guarda, ci piace anche il jazz a noi, eh signorina? Il jazz va bene? Sì, signorina, ma ci fa una roba classica, un'Arietta Franklin? Un'Arietta Franklin? Ma, Arietta, Arietta. Arietta Franklin? Sì, qualcosa si può fare, vediamo. Ma da sola così, senza base? No, 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 gli mettiamo la base, adesso parte la musica e lei ci canta sopra, va bene? Allora facciamo un Etta James, così va così. Dopo vediamo, facciamo quello che gli viene meglio, signorina, non voglio mica forzarla, l'importante è che lei ci allievi con la sua musica, d'accordo? Adesso mangi tranquilla che abbiamo tempo. Oh, scusa, Marco!